Hi everyone, today we'll translate White Rabbit. Oggi tradurremo la canzone White Rabbit. Il titolo vuol dire Coniglio Bianco e questa canzone usa personaggi del libro di Alice in Wonderland, quindi di Alice nel Paese dei Meraviglii e del seguito Through the Looking Glass. Cominciamo. Quindi come sapete c'è nel libro Alice che prende varie cose, le mette in bocca e cambia le sue dimensioni. Quindi qua dice Una pillola ti fa diventare più grande, larger, quindi il comparativo. And one pill makes you small e una pillola ti fa diventare piccolo. And the one that mother gives you don't do anything at all. E quella che tua madre ti dà, don't do anything at all, non fa assolutamente niente, non ha alcun effetto. Ovviamente qui c'è un errore grammaticale, non è don't do anything at all, ma sarebbe doesn't do anything at all, perché il soggetto è la pillola. Go ask Alice when she's ten feet tall. Va, chiedilo ad Alice. Quando è alta, dieci piedi. Ora, dieci piedi vuol cerca dire, io sono alto circa un metro e ottanta e questo si traduce come, diciamo, cinque piedi e undici. Quindi è tipo, tipo il doppio, quindi diciamo quattro metri, ecco, quindi quando è molto alta. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, e se tu vai a rincorrere i conigli, come ha fatto Alice nel Paese di Meriviglie, and you know you're going to fall, e sai che cadrai, cadrai nel, cadrai nel, 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 nel rabbit hole, che è nella tana del coniglio, perché loro fanno questi buchi, poi appunto Alice cadendo in questo buco, che era questa specie di tana di coniglio, entra in questo mondo. Ovviamente tutta questa canzone un po' ha delle connotazioni allucinogeniche, come nel periodo, in quanto è stata scritta, un po' il periodo di Woodstock, e quindi, anche se il libro in realtà di Alice nel Paese di Meriviglie è stato scritto nell'ottocento, anche lì comunque si pensava che prendessero sostanze che un po' allucinogeniche, c'era l'oppio, e quindi anche questo qui, to chase rabbits, può voler dire anche se tu, diciamo, prendi sostanze stupefacenti, e poi sai che cadrai, quindi che entrerà in questo mondo. Quindi se tu rincori conigli e sai che cadrai, in questo buco, quindi entrai in questo mondo delle meraviglie, tell them, a hookah-smoking caterpillar has given you the call. Diggili, dia loro, tell them, sarebbe, però c'è la prefezione, che un, um, un bruco, perché come, il bruco come nella, nella storia di Alice nel Paese di Meriviglie, che fuma il narghilè, hookah, vuol dire narghilè, e questo bruco che fuma il narghilè, digli a queste persone che lui ti ha chiamato. He's given you the call to call Alice when she was just small. Che ti ha chiamato e ti ha detto di chiamare Alice quando eravamo già molto piccola, just small. Poi, when the men on the chessboard get up and tell you where to go, quando gli uomini, sulla scacchiera, perché c'è anche una parte nel libro dove parla di questa scacchiera, quindi quando gli uomini nella scacchiera si alzano, get up, and tell you where to go, e ti dicono dove andare. And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low. E hai appena preso un pezzo, un po' di, una specie di fungo, some kind of mushroom, una specie di fungo, and your mind is moving low. E la tua mente si sta muovendo low. Allora, non si usa in realtà questa espressione, your mind is moving low. È una licenza poetica, potrebbe voler dire che la tua mente è un pochino fuscata, è un pochino rallentata. Low ha un qualche cosa di, appunto, o rallentato, oppure non funziona, not high, quindi non funziona velocemente ma più lentamente, anche se low vuol dire basso comunque normalmente. Quindi, se hai appena preso una specie di fungo, anche qui una, che è nel libro, ma anche, ovviamente si sa che ci sono i funghi allucinogenici, and your mind is moving low, e la tua mente è un pochino lenta, go ask Alice, I think she'll know. Vai a chiedere, vai a chiedere Alice, io penso che lei saprà. Quando la logica e la proporzione sono cadute, morte, malamente. Ecco, sloppy vuol dire o in modo proprio buttato lì, proprio senza ordine e senza rigore. E quindi, quando la logica e la proporzione sono proprio completamente andate fuori dalla finestra, in modo malamente, possiamo dire. Tutto questo perché queste cose allucinogeniche portano a far sì che la logica e la proporzione non ci sia più, e tutto è molto trasformato, le visioni che si vedono non hanno logica e non hanno proporzione. Il white knight è, diciamo, i pezzi degli scacchi, noi li chiamiamo il cavallo, però loro chiamano il cavaliere il pezzo, quello che si muove a L nella scacchiera, ed è un personaggio anche questo che parla con Alice. In questa canzone dice E il cavaliere bianco, quindi il pezzo della scacchiera, ti parla al contrario. To talk backwards vuol dire parlare al contrario. E la regina rossa, quindi anche questa è la regina rossa quella che poi diceva appunto tagliatele la testa, o tagliategli la testa, e off with her head appunto vuol dire via con la testa. E questa è la vera espressione che si dice in inglese nel contesto di Alice nel pezzo della meraviglia. Remember what the dog mouse said? Feed your head. E poi dice Ricordati cosa disse il ghiro. Il ghiro è anche quello del personaggio che si addormenta sempre. Feed your head. Nutri la tua testa. Questa in realtà è una cosa che lui non ha detto nel libro, sono andato a controllare, però ovviamente tutta questa canzone usa il tema di Alice nel pezzo della meraviglia come pretesto per poi parlare di droga e delle allucinazioni. Infatti ho scoperto che la censura all'epoca era molto attenta e avrebbe fermato questa canzone se avesse capito che ci fossero state queste... parlare della droga appunto nella canzone. però avendo mascherato questo tema con Alice nel pezzo della meraviglia è stato lasciato. Quindi spero che questa canzone vi sia interessata. È una canzone molto interessante e la traduzione appunto cela quest'altro mondo parallelo. As usual, if you like it, let me know. And if you want other translations, let me know also. So, have a wonderful day and bye for now.